Il primo lo dedichiamo, la professore Saullo, anche lei ha detta le riprese, non so, ha tante cariche qua nella scuola, ma faccio un po' fatica a ricordarlele. La professore Saullo dice, ci tiene, ci teneva che iniziassimo proprio con questo brano perché fa parte un po' del repertorio da diversi anni, noi volevamo anche cambiare Togliado, e invece mi ha insistito perché, benissimo, è il tema di Titanic, ma anche gli altri, anche gli altri, però questo non... Ok, allora iniziamo con il tema di Titanic. Togliado 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.